Giovani guerrieri, a voi affido la salvaguardia della Dea Athena. Sono qui per punire il vile inganno di Isabel di Ture, che osa proclamarsi la Dea Athena. Vieni a combattere. È l'ora. Non siete degni di questo luogo. Essere immandi! Nulla ostacola il mio cammino! Giovani guerrieri, bruciate il vostro cosmo, perché l'umanità si risvegli nella pace. Fulmine di Pegasus!